Sono passati sei anni da quando ho iniziato a fare questi scatti su questi settori di mercato in evoluzione. Allora le definivo evoluzioni silenziose perché non si trattava ancora di business pervasivi. Oggi non sono certo rivoluzioni silenziose, sono diventate rivoluzioni fragorose perché queste imprese sono diventate delle grandi multinazionali. È l'ultima cosa che vorreste fare perché è un asset che si svaluta in fretta, lo si usa per il 3% del tempo e per il restante 97% pagate un sacco di soldi per il parcheggio. Questa affermazione relativa all'uso dell'auto in città non l'ha fatta un tizio che vende paleoliche o bici elettriche, l'ha fatta Dan Hammann, il presidente di una grande società del mondo automotive, la General Motors. Perché ve l'ho messa? Perché è un indicatore di come si è cambiata la percezione del prodotto auto. Questa slide è datata, l'ho lasciata per rappresentare l'evoluzione di un grande operatore del settore, il gruppo Daimler, la Mercedes, uno dei grandi operatori del mercato automotive. Riporto questa slide sui numeri della mia città, Firenze, quando è apparso il servizio di car sharing di Car2Go. Firenze fu una delle prime città in Italia. Osservate l'evoluzione del servizio in questi anni. 27 milioni di clienti in tutto il mondo. Il mondo Daimler ha cominciato a riflettere su se stesso e della sua evoluzione, ha cominciato ad entrare nel mondo delle app e dei servizi e si è comprato MyTaxi. Piccoli business ovviamente in confronto al business tradizionale della venda delle auto, ma sono esempi di come il gruppo Daimler stia indubbiamente riflettendo su cosa fare di sé e come tutti i grandi operatori del settore, del mondo automotive e del resto. Quindi ha creato una holding del gruppo che ha per l'appunto, come missione questo obiettivo, cercare di capire come diventare, come passare, diciamo da essere un produttore di auto ad un produttore, ad un generatore di servizi di valore per la mobilità. Altri esercizi in corso? Ecco questo di Ford che ha messo su una piattaforma di car sharing fra privati. Eccola qua. Ci ha provato anche Opel con il famoso Dan Hammer di prima. Ecco qua l'esempio. Domanda provocatoria. La casa, il bene più statico, solido e vicino alla nostra cultura del possesso, può diventare la base per futuri servizi? E non sto parlando ovviamente di servizi di affitto magari legati al turismo, ovviamente che insomma già sono scontati. Insomma, la casa può diventare una piattaforma? Per chi opera nel mercato delle costruzioni gli ultimi anni sono stati indubbiamente molto pesanti e le case abbiamo smesso di costruirle. Per certi aspetti finalmente, dico io. In ogni caso comunque abbiamo cominciato a pensare che forse bisogna utilizzare il patrimonio edilizio ed istante, già molto vasto diciamo. Ma la domanda è la casa può diventare una piattaforma servizi? La mia risposta è sì, lo può diventare. Ve lo dico con cognizione di causa perché sto lavorando insieme ad una startup che sta sviluppando un business su questo tema. Come può evolvere il modello di business delle costruzioni? Al pari del mondo dell'auto, come si possono costruire delle piattaforme servizi a partire dalla presenza di un immobile? Tutta la riflessione è nata intorno a dei trend che si incontrano. Le tecnologie ormai sono presenti nelle nostre case intelligenti e sono stati fatti grandi sforzi, per esempio per il risparmio energetico. Si sa, le case sono un grande consumatore di energia e su questo si sono sviluppate molte tecnologie. Ma le tecnologie potrebbero incontrare un altro trend. Noi è sotto gli occhi di tutti che la nostra popolazione sta invecchiando. Domanda, che supporti devo dare a chi in casa ha necessità di assistenza? Genericamente intesa, che tecnologie sono disponibili per aiutare chi sta all'interno di una casa? Come posso erogare questi servizi all'interno di una piattaforma? Punto di domanda. La risposta a queste domande ci porta a far diventare la casa una componente, è possibile farla diventare una componente di una piattaforma servizi. Piattaforma, piattaforma, è un termine che ricorrerà. Se parliamo di piattaforme servizi non possiamo non citare il caso notissimo di Airbnb. Vi scorro velocemente queste slide, queste slide sono vecchie di qualche anno fa, 22 miliardi di capitalizzazione. Oggi sono 30 e il tutto lo sapete senza nemmeno un immobile di proprietà. Lo stesso vale per Uber, non ha nemmeno una macchina di proprietà e nemmeno un dipendente. Scusate una piccola parentesi, attenzione, non sto alloggiando questi modelli, sto solo evidenziando l'impatto che questi modelli di business stanno avendo nella vita e nello sviluppo delle organizzazioni. La musica è un altro settore in evoluzione, un mercato che ha subito una trasformazione non solo dal punto di vista delle tecnologie di supporto musicale, ovviamente, ma anche dal punto di vista della fruizione. Oggi per chi fa musica la vendita di dischi non è più certo al centro del modello di business. I musicisti, se vogliono portare lo stipendio a casa, si devono preoccupare di vendere un po' più di concerti, un po' più di merchandising. Direi che soprattutto si devono preoccupare del personal branding, che questo ovviamente avviene con metodi diversi anche rispetto al passato. Devono fare attenzione magari a come distribuire i loro prodotti su YouTube, sui social media in genere, come distribuire in genere i propri contenuti. Insomma, è cambiato completamente il modello di sviluppo del business di chi fa musica. L'editoria, non sto a dirvelo, l'accesso ai mezzi di produzione è molto più, molto più facile del libro, è diventato anch'esso una piattaforma, come nel caso del Kindle, per esempio. Anche pubblicare un libro, ovviamente, è più facile. Il credito, il credito. Beh, questa è una slide di qualche anno fa. Guardate, insomma, tentativi delle banche tradizionali di migliorare la legislazione del experience, sicuramente notiamo lo sforzo, sicuramente notiamo un po' di freschezza in più. Guardate N26, una banca online tedesca. Guardate l'estratto conto e come è possibile vederlo. C'è un algoritmo dietro che mette insieme le nostre spese e, diciamo, in qualche modo facilita l'accesso all'informazione, ma il classico estratto conto nella maggior parte dei casi è leggibile. Prestito fra privati. Osservate il caso di Lufax, una banca cinese fondata, peraltro, da un americano, 18,5 miliardi di capitalizzazione. Ubibanca, la quarta banca italiana, ha 17 mila dipendenti e capitalizza circa 4 miliardi. Sempre nel mondo del credito il crowdfunding è molto interessante come fenomeno da analizzare, non tanto non solo perché ha una nuova forma di finanziamento, quanto perché ha di fatto ibridato i modelli di business. Che cosa intendo dire? Che sulle piattaforme di crowdfunding non si ottengono solo finanziamenti, ma si vendono i prodotti, cioè si preordina di fatto i prodotti, i prototipi. Se avete un prodotto innovativo, vi siete inventati la bicicletta particolare che entra in una scatola di scarpe, che diavolo ne so, e siete bravi e riuscite a comunicare nella piattaforma di crowdfunding, bene, potete vendere prima di produrre. Quindi di fatto il fenomeno del crowdfunding ha la possibilità di mettere insieme il modello del finanziamento con il modello della vendita online. La pubblicità. Beh, che dire, qui siamo all'apoteosi della trasformazione, siamo nel mondo di Facebook e di Google e qui è completamente cambiato tutto. Ovviamente vi dice la regola della disintermediazione del self-service. Sostanzialmente si sono messi di fatto in connessione tutti gli attori del mercato pubblicitario su una piattaforma. Perché questa carrellata velocissima? Avremmo potuto continuare su altri settori di mercato, ma questi casi sono noti a tutti. È noto a tutto che i modelli di business stanno cambiando. Partendo però da questi casi noti a tutti, vorrei portare la vostra attenzione su un fatto. Ci sono tratti ricorrenti nella trasformazione di questi modelli citati, di questi modelli di business citati? Che cosa è successo di nuovo nel modo non solo di vendere, ma anche di creare relazioni, cercare talenti? Che cosa è cambiato? Quali sono i tratti ricorrenti? Bene, questo lo vedremo nella prossima lezione. Grazie a tutti.